Principio di annegamento per una bambina di tre anni nella retino. L'incidente è avvenuto a Bucine, in una struttura ricettiva dove la bambina si trovava in vacanza con i genitori. Per cause in corso di accertamento, la piccola è caduta in piscina. È stato un medico che si trovava lì in vacanza a praticare il massaggio cardiaco alla piccola. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza arrivata da Montalto e l'elisoccorso Pegaso. La bambina è stata trasportata all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso. Appena una settimana fa, un episodio simile, un bimbo di 5 anni, era stato ritrovato a esanime in una piscina sempre in una struttura ricettiva di Pieve a Maiano. In quel caso erano stati i genitori a praticare il massaggio cardiaco guidati dagli operatori del 118 al telefono. Fondamentale in questi casi la tempistica di intervento. Perché comunque sia il 118 può essere veloce quanto si vuole, ma in realtà i primi soccorritori sono le persone che sono accanto all'utente che sta male. Quindi l'aiuto imminente da parte di chi è intorno è fondamentale per la sopravvivenza e per l'esito della missione.